E rieccoci. Annunci tu il prossimo speaker Miriam? Yes. Allora chiamiamo sul palco Francesco fullone, a caffullo, che ci racconta. Eccoci, i tempi, poi un'altra cosa. Ciao, ciao, ben trovate. Allora, è importantissima come ci si rende inutili e secondo me si ricollega anche a quello che diceva Patrizia prima, come fare a guadagnare senza lavorare, cioè se diventiamo inutili e la macchina continua ad andare avanti lo stesso... Sì, diciamo che non c'è causalità, nel senso uno può diventare inutile e non guadagnare niente, però l'obiettivo potrebbe essere quello di diventare inutile e continuare a guadagnare qualcosina, quindi penso proprio di sì. Quindi teniamo insieme le due cose, sì dai, ci piacciono. Sì, insieme, esatto, esatto, esatto. Vai, ti ascoltiamo. Allora, prima di tutto mi presento e sono Francesco fullone, sono un multipotenziale, così viene definito, nel senso che provo a fare qualsiasi cosa, mi passi per la testa, alcune volte malissimo, alcune volte recentemente, però di fatto non sono mai soddisfatto in quel che faccio e ne faccio veramente tanto. E questo mi ha portato a di fatto fare l'imprenditore. Sono imprenditore di me stesso, come molti di noi, quindi freelance, ma anche imprenditore perché partecipo alla vita di diverse aziende. Una di queste è A-Propos. Tendenzialmente quello che ho imparato a fare, anche in altre esperienze, è darmi degli obiettivi sul medio e lungo termine. Il mio obiettivo principale, il mio obiettivo della vita, è quello di andare in pensione. L'ho dichiarato all'età di 18 anni che volevo andare in pensione, però per riuscire ad andare in pensione con un certo grado di successo, devo crearmi il famoso reddito di cui si parlava prima. Ecco quindi che ho iniziato a cambiare un po' i miei atteggiamenti. E quello che è successo qualche giorno fa mi ha fatto capire che probabilmente quello che stavo facendo stava iniziando a funzionare bene. Cosa è successo? Ho preso l'influenza. Ho preso l'influenza in un periodo abbastanza topico per A-Propos perché avevamo sia retrito aziendale che una conferenza. Retrito aziendale in cui dovevamo decidere le attività, gli obiettivi per il 2024 e anche gli obiettivi strategici per gli anni successivi, quindi cosa cambiare all'interno della nostra operatività e più c'era da dare una mano per la conferenza. Febbre alta, mal di gola, febbre alta 37.4, 37.5, quindi ero sul punto di morte da come ogni bravo uomo che prende il raffreddore. E quindi ho chiamato Giulia e ho detto guarda ho la febbre, abbiamo già discusso in passato di quelli che erano gli obiettivi, prova a portare avanti tu il retrito. E questo di fatto è stato fatto, quindi senza la mia presenza. Tant'è che A-Propos ha creato negli ultimi mesi una nuova immagine, ha creato A-Propos, intesa come le persone all'interno di A-Propos, hanno creato una nuova immagine, hanno creato una nuova strategia, hanno definito quelli che sono punti chiave su cui andare a lavorare nei prossimi mesi e il tutto senza di me. Tant'è che presentandomi il giorno dopo del retrito ancora un po' ammaccato e praticamente senza voce, quello che mi è stato detto è guarda potevi anche non venire oggi, sei inutile. Comunque è già tutto pronto. Io ho detto vabbè monto il roll up, tanto ormai sono diventato il ragazzo che monto il roll up, dopodiché vi saluto e me ne vado. E così ho fatto. Però ecco c'è un tema che è abbastanza importante, c'è da capire, a parte gli oscuri memi che sto mettendo, c'è da capire cos'è l'inutilità. C'è inutilità e inutilità. C'è una inutilità come ad esempio quella di Yamcha, non è Goku, quello che vedete, che in tutto Dragon Ball di fatto è una macchietta dietro a quello che è la storia principale e che non porta nessun tipo di valore aggiunto alla storia e c'è invece un'altra inutilità che definisco più una inutilità operativa, nel senso che quello che posso fare io è comunque ridondante rispetto alle persone che già sono in azienda e che probabilmente lo sanno fare. C'è una citazione che mi piace fare spesso di Jacocca, che è un italo americano che ha salvato Chrysler negli anni Ottanta e che assumo le persone che sono più intelligenti di me e poi mi tolgo di mezzo. Questa cosa qui funziona molto bene, funziona molto bene però ha un limite. Qual è questo limite? Il limite è che se io mi tolgo di mezzo ma non aiuto le persone più intelligenti di me a fare quello che faccio io, di fatto le metto in crisi, non permetto di diventare inutile, sarà un continuo chiedermi come fare le cose. Ecco quindi che c'è un'altra cosa da mettere a terra, cioè quello di comunicare chiaramente quelli che sono i risultati attesi, gli obiettivi che vogliamo raggiungere in modo da far capire la direzione da prendere però senza andare nei singoli dettagli implementativi. Perché non dobbiamo andare nei dettagli implementativi? Perché se assumo le persone più intelligenti di me probabilmente i dettagli implementativi li conoscono meglio di me. Ecco quindi che bisogna fare un altro switch, un altro passettino avanti e prendiamo un'altra citazione che è quella di Steve Jobs che dice che assumere le persone più intelligenti di te per dare gli ordini non ha assolutamente senso. Noi assumiamo, dobbiamo assumere persone più intelligenti di noi perché siano loro a dirci cosa fare. E a dirci cosa fare, ovvio noi abbiamo degli obiettivi come azienda, abbiamo degli obiettivi personali anche come freelance, però la singola operatività, le singole cose da fare è inutile che le portiamo noi, anche perché non saremo noi, io nel mio caso, a poi a metterle a terra. E questo porta un'altra cosa, porta uno stato di insoddisfazione nel vedere che gli altri fanno le cose non come vorrei io. Cioè dobbiamo evitare quella che è un po' la sindrome del Lumarel, ci mettiamo dietro, guardiamo come stanno funzionando i lavori, io avrei scavato un po' più in là, ai miei tempi qui era tutta campagna e guarda tutto quello che vedi un giorno sarà tuo, però il tema fondamentale è che se commentiamo il lavoro degli altri mentre lo stanno facendo e lo stanno facendo su loro iniziativa, su loro inventiva, di fatto stiamo impedendo loro di crescere, di migliorarsi, anche semplicemente di portare a terra quelle che sono le attività da fare, sapendo che comunque gli obiettivi sono stati condivisi, c'è chiarezza di intenti, sappiamo dove vogliamo andare. Può esserci un problema di fiducia iniziale, non so se questa persona è capace di fare questo lavoro e ci sta, però proprio perché magari inizialmente c'è un problema di fiducia e proprio perché c'è anche una retrosia a rendersi inutili o inutili in maniera utile come dicevamo prima, quello che possiamo iniziare a fare è ragionare in un'ottica di delega, capendo di volta in volta che tipo di delega fare. Uno strumento che ho trovato molto importante nella mia vita è quello del delegation poker, è ben descritto nel libro Management 3.0, ci sono diversi livelli di delega, però la cosa interessante è come questi livelli possono essere messi a terra, è vero io posso avere una delega in cui la gente viene da me a chiedere cosa fare e io gli dico cosa fare, come farlo, eccetera, eccetera. Però una cosa molto più utile, o almeno che io reputo utile, è quella di nel momento in cui voglio rendermi inutile, quindi abilitare le persone a fare le cose, sono io che chiedo alle persone tu come lo faresti, perché lo faresti in questo modo. In questo modo quello che sto facendo non è altro che dare coraggio a queste persone e fargli vedere che la loro opinione conta, anche perché, ripeto, sono più intelligenti di me, di base, sono più capaci di me, di base, probabilmente anche sull'operatività sono molto meglio di me, anzi sicuramente sono molto meglio di me, e chiedendo loro come farebbero le cose, non sto facendo altro che permettergli di pensare, permettere di ragionare, e ad un certo punto quando le risposte iniziano a dare anche a me quel grado di soddisfazione, ma più che altro fiducia, lo step successivo è perfetto, allora fallo. E tutto questo significa anche usare un po' la maieutica all'interno dei propri rapporti lavorativi, significa abilitare il pensiero critico delle persone, non chiedere soltanto cosa faresti, ma perché lo faresti in questo modo, quali sono le altre opzioni che abbiamo a disposizione, quali sono i casi pessimi a cui possiamo andare in contro, i casi positivi, quindi per affrontare quelli che sono tutti gli scenari. E abilitare questo genere di discorso con le altre persone in azienda significa di fatto creare un'azienda che è capace di pensare, che è capace di ragionare un po' oltre al semplice spostare da A a B la persona all'interno dello schermo. Quindi significa anche rendersi inutili creare una cultura del fallimento sana, una cultura del fallimento che di fatto permette alle persone di provare, fallire, imparare dal fallimento e la volta successiva fallire meglio, ma non solo, permette anche di riuscire, imparare dal successo e la prossima volta riuscire ancora meglio, che è un vantaggio non banale nel momento in cui ci vogliamo rendere inutili e non solo inutili, ma vogliamo che l'azienda vada meglio e senza di noi. Però finora ho tendenzialmente parlato solo di aziende, siamo al freelance camp e quindi come funziona questo sull'ambito del France? Diciamo che funziona in un'ottica universale. Perché? Perché non siamo isole in un oceano abbandonate da sole, collaboriamo con altre persone, usare uno strumento di delega sulle altre persone dove sono anche i clienti, possiamo delegare attività al cliente, attività che per noi non sono core, possiamo delegare attività al software. Prima si parlava di CRM, il CRM è un ottimo strumento per delegare quel pensiero ripetitivo di devo chiamare la persona, devo fare questa attività, devo fare quell'altra attività, avendo qualcuno che me lo ricorda, quindi sposto la mia attenzione su cose più importanti. Posso delegare la parte amministrativa al mio commercialista, posso delegare la mia attività di marketing a qualcuno che lo sa fare meglio di me. Il tema principale è che sapersi rendere inutili in quelle attività che noi non reputiamo core per la nostra attività significa di fatto imparare a gestire meglio il nostro tempo. Significa capire che il tempo è una di quelle poche risorse su cui non possiamo contrattare e non possiamo neanche comprarlo, non possiamo averne di più. Significa usare il nostro tempo per prendere scelte strategiche e non per essere oberati dalla produttività o dall'operatività. Significa di fatto iniziare a portare a terra tutti quei ragionamenti strategici che normalmente non riusciamo a fare perché troppo impegnati, impegnati in cose che magari sì sono utili, ci servono, ma non è detto che dobbiamo per forza fare noi. Ci sono vari testi di management, vi consiglio di leggere quelli di Drucker, che dicono che l'importanza delle scelte strategiche ci permette di ridurre anche il nostro carico di lavoro, il nostro carico cognitivo e essere consci della trappola della produttività ci permette di identificare quelle che sono le vere azioni che dobbiamo fare per portare più valore all'azienda o a noi stessi come freelance. E questo significa anche dire di no. Essere inutili significa anche non fare cose, ma non perché le abbiamo delegato, perché sono inutili da fare, dire di no a determinati clienti che possono essere per noi tossici, dire di no a determinate attività che non portano valore né a noi né al cliente stesso. In sostanza essere l'inutilità buona, l'inutilità positiva è una inutilità del fare, cioè del permettere agli altri di fare, del permettere agli altri di fare meglio, magari rimanendo dietro, accarizzando il nostro gatto bianco e valutando come andare a conquistare il mondo nelle nostre prossime attività, nelle nostre prossime fasi lavorative, però di fatto e sapendo quello che sta succedendo, identificando obiettivi, discutendo di questi obiettivi con le altre persone e anche qui in questo caso insegnando alle persone a definire loro stesse gli obiettivi per essere inutili anche in quella fase, per poi andare a dedicare il proprio tempo su quello che reputiamo più importante. Io ringrazio Apropos perché l'abstract e il titolo di questo talk sono stati decisi da loro, da Lara e da Giulia nello specifico, perché di fatto si partecipo alle conferenze, ad alcune delle conferenze, ma partecipo facendo il ragazzo di roll up e ogni tanto metto becco dicendo strategicamente potremmo fare questo genere, portare questo genere di contenuto nella conferenza e la risposta non è un, non lo so, ma ragioniamo insieme per fare, quindi vuol dire che la cultura del fare è forte e non c'è paura nel provare e quindi grazie ad Apropos perché io adesso posso fare cose molto più interessanti, tipo andare a pranzo tra poco con un possibile cliente. Grazie. Siamo noi anche che ringraziamo tantissimo Apropos, davvero oltre a te Francesco per questo talk, come sempre molto stimolante, però non l'ho detto all'inizio, ma Apropos è sponsor tecnico del freelance camp ed è intanto un'azienda con delle persone molto in gamma, alcune di queste le conosciamo molto bene perché ci abbiamo lavorato tanto in questi anni ed è quella che ci consente di fare queste edizioni online dei freelance camp, quindi di nuovo grazie, mille grazie ad Apropos e anche a te Francesco, vedo che ci sono un sacco di commenti in chat. Io vado a vedere. Tanto guarda che abbiamo gli speaker più wow perché tutti stanno nei tempi spiccicati che, non lo so, io non lo trovo mica in tanti eventi questa cosa, quindi ancora meglio. Sarò in qualche minuto. Imparare dagli errori non è una scusa per sbagliare tanto poi imparo. Ma non è una scusa per sbagliare tanto poi. Il tema è che se non sbagliamo vuol dire che non stiamo facendo nulla. Quindi l'unico modo per imparare è imparare dagli errori e gli errori nostri e gli errori di qualcun altro perché leggere i libri, formarsi, che sono tra le cose che metto nell'attività del tempo libero che ho a disposizione e mi permette di imparare di più. Però se poi non metti in pratica quello che impari nel libro e quando lo metterai in pratica sbagliarei sicuro di fatto non sta imparando bene, non sta interiorizzando tutti quei concetti. Quindi permettere alle persone in azienda di sbagliare significa permettere di farle crescere professionalmente, come persone e così via. E' un po' come con i bambini cioè se ai bambini si dice sempre no non fare questo perché poi chissà cosa succede semplicemente stiamo crescendo una generazione di persone incapaci di provare cose nuove, di realizzare cose nuove perché avevano sempre il terrore della novità e del cambiamento. Come i bambini, i collaboratori bisogna trattarli in modo che sappiano che possono sbagliare quanto vogliono in un range, ma il range è definito dagli obiettivi, dalla trasparenza organizzativa e questo ci aiuta a lavorare meglio. Grazie di nuovo Francesco. A voi e buon proseguimento. Allora buon pranzo.